A caccia del riscatto, nulla da salvare della serataccia di Gubbio. Sbagliato il piano gara, presentare un centrocampo senza interdizione, impatto fisico è stato un errore strategico. Il Pescara si è letteralmente consegnato, è uscito con le ossa rotte. È successo, non dovrà più accadere perché perdere fa parte del gioco. Di fronte c'era un avversario come il Gubbio in salute e in grande fiducia, ma le modalità del K.O. hanno fatto discutere non poco. Ora la spalla all'Adriatico, autentica delusione del girone, ma rinfrancata dal ritorno al successo 1-0 sulla Re Canatese che mancava dello scorso 23 dicembre. Fuori i centrali Brosco, causa squalifica, e Di Pasquale che al massimo andrà in panchina. Problema alla schiena. Torna Pellacani a distanza di quasi due mesi dall'intervento al menisco. Al suo fianco Messic, previsti altri rientri. Floriani in difesa, Squizzato e Franchini, favorito su Aloy a metà campo. La possibile sorpresa, il debutto in attacco dal primo minuto di Luca Sassanelli, che in questo caso verrebbe preferito a Cuppone. Ecco dunque il probabile undici. Plizzari tre pali, in difesa Floriani, Pellacani, Messic e Milani. A centrocampo Squizzato play, Mezziali, Franchini e Meazzi. Davanti Merola e Cangiano, Anchelli al rientro nell'undici base, a supporto di Sassanelli. Ancora panchina per Tuniov, ex della sfida. La Spal, terza ultima, con 24 punti, in piena zona play-out. Sarà prima di sette elementi. Lo squalificato Peda, gli infortunati Siligardi, Saiani, Bassoli, Sitz, Arena, campionato finito, e Bertini. Come detto, con il ritorno di Mimmo Di Carlo, gli estenzi hanno ritrovato la vittoria. Il tecnico di Cassino era stato sollevato dopo cinque giornate al suo posto Colucci, che in 19 gare ha racimolato la miseria di 15 punti. Sistema di gioco 4-4-2. Probabile undici. Galeotti tre pali, in difesa all'ex Teramo Fior d'Aliso, Ghiringhelli, Valentini e Brusca Genne, insidiato dalla rientrante Tripaldelli. A metà capo l'ex Carraro e Buckel, una stagione a Lanciano in B, dieci anni fa. Esterni Edera e Dalmonte, in vantaggio su Maestro, altro ex. In attacco il croato Petrovic, arrivato a gennaio dal Trento, e a Rabi. Il tecnico Mimmo Di Carlo. Zeman, non lo scopriamo mica oggi, Zeman è un maestro perché comunque ha dimostrato negli anni, con la sua filosofia zemaniana, si dice così, di poter rendere felici tanti presidenti e tanti attaccanti. Probabilmente qualche difensore, un pochino meno. La sua vocazione è essere offensivo perché comunque attacca contatti i giocatori, ha un tipo di preparazione, ma anche di stare in campo con giocatori specifici, perché non tutti riescono a fare quel gioco lì. E' questa anche la forza di un allenatore che, con le sue idee, riesce a indirizzare una squadra a credere in quella cosa lì. Quindi anche Pescara sta facendo un buon campionato, anche se purtroppo le sconfitte poi rendono negativo magari quello fatto prima. Però si gioca contro Zeman, si gioca a viso aperto, uno contro uno, i duelli, bisogna vincere più duelli possibili. Sicuramente la difesa sarà messa sotto pressione. E quindi anche io sono curioso di vedere come riusciamo a rintuzzare e a ripartire ogni volta contro la squadra di Zeman, che sappiamo bene che in fase d'attacco è una squadra forte. Quindi sono curioso anch'io, ma io sono molto fiducioso. Precedenti in Abruzzo dal lontanissimo 1948-49, cinque vittorie del Delfino, quattro pareggi, un KO. Nelle immagini, 6 marzo 2021, decide in avvio questo rigore inesistente. Scognamiglio si ferma, Mora cerca il contatto e l'arbitro Federico, la penna di Roma a bocca, le proteste sono giustificate. Esecuzione non impeccabile dell'ex Valoti, Fiorillo intuisce, devia, ma non basta. Dei quattro pareggi vi mostriamo quello maturato il 17 maggio 1981, Serie B a Mimmo Di Michele, nono sigillo stagionale, risponde Castronaro, risultato finale, uno a uno, era il Pescara di Aldo Agroppi. L'ultima vittoria a Becchazzurra risale al 14 marzo 2010, Serie C, Coletti arma il destro, non benissimo, il portiere della SPAL Capecchi, gol partita di Ciccio Dettori.